Gli ordini dello Stato, fuori gli ordini, apporto dietro, partiti. Penalty punta su, buonasera, veloce la frazione di due, buonasera, velocissima su penalty, allargo Musa d'Oriente che precede, pericolo imminente, ma qui vanno veramente forte, buonasera Adilena, mamma mia che frazione hanno fatto, buonasera, penalty all'esterno Musa d'Oriente, velocissima la prima parte, poi pericolo che all'interno Littolo Hara, Trust, Paschkid con buonasera, penalty in vantaggio a 600 metri al palo, buonasera, lunga ancora da penalty, Musa d'Oriente, pericolo imminente, Trust You, poi Fast Dream, Paschkid, Muntani con buonasera, inseguito da penalty, poi ancora Musa d'Oriente, Trust You che si prepara, pericolo imminente, a Littolo Hara in corda, buonasera contro penalty che prova a andarlo a prendere, buonasera in vantaggio su penalty che ci prova, Trust You, Musa d'Oriente, penalty aggancia, buonasera ed è in vantaggio, inseguita da Musa d'Oriente, penalty in vantaggio, si ingamba Musa, penalty che scappa, Musa che prova a andarlo a prendere, penalty è in vantaggio su Musa d'Oriente, penalty fino in fondo, penalty fino in fondo in una corsa bellissima, Musa d'Oriente in seconda, 7-6 per la terza, alla fine è Littolo Hara a precedere Muntani e Zanobori, appuntamento per questa categoria al 24 marzo, c'è il Camisci, tanti di questi, li rivedremo, Muntani a stracorso, Littolo Hara positiva, pericolo imminente lì, insomma ci sarà un bel handicap del Camisci, ve lo possiamo garantire, quindi appuntamento già da adesso al premio Enrico Camisci, penalty che si mette a riparo da Musa d'Oriente, che gli rendeva 5,5 kg di rientro, ma Musa d'Oriente è ancora lì a lottare, terzo Littolo Hara, l'incursione di Fazio, positiva a San Rossore, quarto a Muntani, una bella scommessa fatta a Puscedo, è un soggetto che ne sentiremo parlare ancora, è tutto. Penalty. Terzo Littolo Hara. Rientrano i protagonisti del premio Vittorio Ugo Penco, ancora la giubba bianco-blu indossata da Dario Vargiù a segno, penalty, era un rigore, hai fatto gol. Stava bene, stava benissimo, era già rientrato a Napoli vincendo in bello stile, i cavalli che ha battuto poi si sono ripetuti, la forma ce l'aveva, l'unica incognita era un pochino la pista, perché ci ha corso una volta sola se non sbaglio, le prime corse che faceva. Buonasera ti ha fatto una... Buonasera ti ha fatto una... Mi ha fatto da riferimento, col senno di poi potevo prenderla un po' più tranquilla, più comoda, però Maria Edu davanti è come un goloso nel negozio di cioccolato, è meglio tenerlo buono. Bellissimo questo paragone per cui Dario Vargiù vince ancora, stavolta con penalty, i colori di nuovo della New Age a segno e ancora il training di Alduino Botti. Invitiamo il pubblico a restare in tribuna perché tra pochissimo saremo di nuovo pronti per l'ultima esibizione di Disc Dog.